Almeno 5 corpi sono stati trovati a Comiso in un sarcofago del 1453 della famiglia Naselli, signori della cittadina. Ci sarebbero corpi di uomini, di una donna e almeno uno o due bambini. La scoperta è stata fatta qualche giorno fa nel corso dei lavori di recupero del sarcofago in pietà arenaria, il più antico della provincia di Ragusa che secondo tradizione avrebbe custodito i resti di Baldassar I Naselli e della moglie Isabella Bonito Montaperto. L'intervento è stato finanziato dalla regione siciliana ed è stato chiesto dal direttore del santuario, padre Viaggio Aprile, e caldeggiato dalla restauratrice Marinella Cataldi che ha lavorato sotto la supervisione della sovrintendenza di Ragusa. Il progetto è stato finanziato dalla presidenza dell'Arse su richiesta del deputato regionale Giorgio Assenza. Il sarcofago riporta gli stemmi dei Naselli e dei Bonito e secondo tradizione dovrebbe custodire i resti di Baldassar Naselli e come detto appunto della moglie. I resti mortali trovati nel sarcofago sono stati affidati ora a due paleontologi, Francesco Maria Galassi ed Elena Varotti, titolari dello studio Faber Research Center di Avola. La chiesa è uno degli edifici di culto più antichi di Comiso e il primo impianto si fa risalire al tardo 1400 quando a Comiso si insediarono i conti Naselli. I Naselli fondatori poi della città di Aragona arrivarono a Comiso nel 1453. Il primo signore di Comiso fu appunto Naselli che si insediò in quell'anno e volle costruire una cappella mausoleo per la famiglia. Il progetto venne attuato probabilmente dal suo successore il nipote Pietro Antonio Naselli. Il figlio di quest'ultimo Baldassar I sposò la moglie Isabella Bonito Montaperto. Ma i ritrovamenti di resti così numerosi fanno pensare alla presenza di altre persone, forse figli o nipoti, morti in tenera età e seppelliti forse nello stesso luogo. Le indagini paleontologiche potranno permettere di dare alcune risposte sulla possibile identità di coloro i cui resti sono stati trovati nel sarcofago dei Naselli, uno dei più antichi della provincia.